Commissario Moceri si inaugura oggi il primo tratto della linea del Terzo Valico, una svolta importante per l'intero territorio alessandrino. Assolutamente sì, è importante questo evento di oggi perché dimostra che le opere si possono fare, superando le difficoltà, lavorando insieme, oggi proprio diamo un segnale concreto di un servizio che viene attivato e non solo di un'opera che viene realizzata. Per me è un momento importante nel mio ruolo di commissario ed è una risposta che mi ero impegnato a dare e che con questa giornata offriamo alla cittadinanza. Tra l'altro, qualcuno diceva prima, come l'onorevole vulnerare, che a breve potrebbero esserci novità importanti anche sul retroporto di Alessandria. Sì, stiamo lavorando con tutti gli altri partner di Ferrovie, Gaspi, Sistemi Urbani per consegnare il progetto per la revisione dello scalo di Alessandria Svistamento e penso che in poco tempo saremo in condizione di poter convocare un incontro pubblico per illustrare i risultati. Il lavoro è un ottimo punto. Grazie. Grazie.